sono passati 25 30 minuti e questo è il risultato senti come sfrigola ma vogliamo vederlo nel piatto stasera cuciniamo una ricettina sfiziosetta con lumaconi ripieni di spinaci lessi e strizzati parmigiano ricotta vaccina sale e pepe ovviamente cubi e poi ci servirà un mixer per frullare gli spinaci l'acqua bollo è salata nel momento di buttare la pasta che scoleremo al dente con la mia piccola aiutante grace abbiamo frullato tutto ricotta spinaci parmigiano sale e aggiustato di pepe la pasta nel frattempo l'abbiamo buttata e la tireremo fuori bella al dente io e grace ci accingiamo a fare una bechamel delicata la mia bechamel è pronta la lascio un pochino più liquida in modo che possa ultimare la cottura della pasta in forno è arrivato il momento di farcire i nostri nomaconi ecco pronti i miei cestini per essere inondati dalla fantastica bechamel forse esagerato ma no meglio sabundare quam deficere adesso in forno a 180 gradi per circa un 25 minuti 30 ok di gratiniamo